prego ciao direttore io sono il salutatore e io che devo fare ti chiedo un saluto a tutti i fan della festa del cinema di roma un saluto venite a vedere film e comprate i biglietti sopra questo è importante e ho una sorpresa per te la manina del salutatore per salutare tutti ciao